Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovissimo video in cui proveremo iPhone 16 Plus il dispositivo che quest'anno segna veramente il salto generazionale in casa Apple non tanto per i pro che comunque proveremo sul nostro canale ma quest'anno forse lui è quello che avverrebbe senso di essere comprato prima di continuare con la recensione vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto, lasciate un bel like a questo video o come sempre se volete chiedermi qualcosa non esitate a scrivermi qui in basso nei commenti partiamo con ordine però, partiamo dal design iPhone 16 Plus l'avrete visto sicuramente in tantissime foto, in tantissimi video dal vivo cambia la parte posteriore, le fotocamere non sono più in obbligo ma sono uno sotto all'altro il flash led si trova da quest'altra parte un design che a me sinceramente non dispiace, anzi mi piace molto di più rispetto a prima nonostante sia leggermente più semplice di prima back che non trattiene le titate, bellissimi materiali utilizzati da Apple sembrano comunque molto robusti e sinceramente molto premium i bordi sono leggermente arrotondati sia qua che qua proprio come sulle versioni Plus e fan sì che anche il grip sia ottimo parlando di tasti, qui abbiamo i tasti più famosi del web si può dire tasso della fotocamera, il tasto di accensione, da questa parte il liscio qui abbiamo il tasto azione con il bilanciere del volume, il carrellino per la sim e in basso abbiamo solo tepsi con i vari altoparlanti le fotocamere come vedete sono abbastanza sporgenti e questo è un piccolo difetto perché rispetto agli anni precedenti qui adesso balla molto di più se lo mettiamo su una superficie piatta ma comunque se mettete una cover questa cosa viene risolta display 6.7 pollici, un ottimo display, ovviamente si tratta di un AMOLED non c'è l'always on display come sulle versioni Pro e questo forse è un grande difetto per Apple tra l'altro le condizioni qui sono leggermente più ambe rispetto proprio alle versioni Pro ma ci sa perché qui si troviamo su una versione inferiore ai Pro qui abbiamo la Dynamic Island, funziona sempre benissimo con il Face ID non c'è il Touch ID anche se molti su web stanno implorando Apple di inserire il Touch ID in questo tasto secondo me sarebbe una funzione molto carina vi dicevo, comunque funziona benissimo il Face ID, perfetto, lo conosciamo benissimo allora, display da 60Hz, in molte è stata criticata ok, la critico anche io perché per il prezzo che costa questo iPhone Apple non poteva essere sentita ai 120Hz qui ci troviamo a 60Hz, ma in pratica se vi devo dire se trovo delle differenze no, sinceramente non trovo delle grandissime differenze tra 120Hz a 60Hz e io utilizzo come dispositivo principale il Galaxy S24 Ultra ci sono dei lag ovviamente perché è evidente che qui siamo a 60Hz ma se voi lo utilizzate per tantissimo tempo non ci fate più casa a questa cosa anzi, a me sinceramente non dà neanche fastidio più di tanto solo per il prezzo, sono sincero, però per il resto comunque funziona veramente molto bene vi faccio vedere un video, ecco, forse se vedete un video è quello che vi potrebbe far vedere un po' di più questa differenza ma comunque qui il display è ottimo e copre tutto i difetti però ecco, c'è questa cosa perché non scegliere più un iPhone prima di tutto iOS 18 ha tantissimi bug ancora è stato migliorato con l'ultimo aggiornamento ma ha tantissimi bug allora, la tastiera secondo me è ferma proprio ai tempi del medioevo questo spazio sotto inutilizzato così c'è solo il microfono da questa parte non lo so, a me questa cosa non piace, non piace questo spazio qui in basso è quello che io odio, che noi abbiamo un display così grande e per andare a scegliere i numeri devo ancora fare qui, vai qua, ritorna indietro, fai 4k devo rimettere qua, poi scrivere 120 sinceramente è un po' troppo fastidioso questa cosa a me sinceramente non piace più comunque vado a cercare un attimo il video perché ovviamente volevo far vedere come si vede il video e anche per esempio se noi dobbiamo andare indietro o delle altre gesture, secondo me iOS è rimasto un po' indietro sinceramente rispetto ad Android o almeno io non mi trovo più di tanto come mi trovavo una volta allora, metto un attimo il display più grande giusto per farvelo vedere vado un attimo più avanti pure qua con il video allora, ve lo avvicino un attimo alla fotocamera vedete che comunque il video si vede decisamente bene non è super fluido come per esempio potrebbe verserlo su 120Hz ma comunque si vede benissimo a me se mi dite ma tu vede una grande differenza tra queste per esempio come se vede sul Samsung no, non c'è una grandissima differenza è un ottimo display, si vede benissimo e vi fa sentire anche un attimo l'audio audio, ve lo dico, non troverete un dispositivo che ha un audio migliore di questo iPhone a meno che per iPhone 16 Pro ovviamente ma qui audio è al top, la musica si sente benissimo se vi vedete un video ottimo perché l'audio si sente proprio profondo ha degli ottimi bassi, comunque vedete il display ottimo ha degli ottimi bassi, io non so come Apple riesca a fare un altro genere su un iPhone ma audio veramente al top comunque qua va benissimo ovviamente iOS 18 nonostante i suoi piccoli bug uno dei bug per esempio che alle volte mentre si sta spegnendo la luce si riduce tutto diventava viola qualsiasi cosa era sicuro diventava viola non so perché questa cosa diventasse viola però tutto diventava viola a bordo abbiamo un Apple A18 come processore con 8 GB di RAM questo è stato uno dei più grandi salti generazionali fatti proprio dagli altri iPhone perché prima c'era un dispositivo leggermente più vecchio un processore leggermente più vecchio sui dispositivi scusatemi ora invece siamo allineati con le versioni Pro quindi un A18 anche se i Pro hanno l'A18 Pro vabbè c'è sempre una piccola differenza da fare con questo e quello la Pro però un processore che gira alla perfezione va veramente bene soprattutto ok pronto per Apple Intelligenza lo vedremo mai Apple Intelligenza non si sa non sappiamo niente arriverà in italiano l'anno prossimo qui in Inghilterra arriverà a dicembre in realtà quindi proverò a vedere se posso provarlo e se posso portarvi un video però in Italia al momento non si sa niente tranne che per il fatto che l'anno prossimo arriverà alla lingua italiana vi faccio vedere un attimo il gioco perché questa è una cosa per cui vale la pena per esempio comprare questo dispositivo se amate i giochi questo è Assassin's Creed non è un gioco che è trovato su altre piattaforme non è un gioco mobile normale qui ci troviamo su un vero gioco da console ok vi ho fatto qualche piccolo taglio giusto perché ci metto un po' di tempo nel caricare i caricamenti non sono velocissimi ma comunque ne vale la pena una volta che sono finiti i caricamenti vi potete divertire perché qui ci troviamo veramente alla grafica da console a parte allora Assassin's Creed è già di per sé un bellissimo gioco in questo caso con questa grafica giocare con i tassi per esempio a schermo è ragazzi è tutto un altro è tutto un altro livello ok con il gioco sì che sicuramente è più comodo ma io per esempio se mi trovo in giro facciamo finta mi trovo in aereo voglio perdere un po' di idea non voglio giocare ad Assassin's Creed beh qui possiamo giocare in realtà sull'aereo non possiamo giocare perché se no in aereo ci vuole una connessione internet per giocarci però comunque è un gioco che funziona decisamente bene vi faccio sentire anche un attimo l'auto perché con l'auto è tutta un'altra cosa allora non è un caso che mi ero fermato qua ok a questa volta c'è stato qualche piccolo laggettino ma vi è sicuro che quando ci ho giocato io non ne ho mai fatto alcun lag ma questo è sempre il bello della diretta di quando si girano i video mi ero fermato qua con l'auto proprio perché forse dalla telecamera non rende però se voi ci giocate l'auto sembra veramente tidimensionale le persone che stanno da questa parte io le sentivo per esempio quasi accanto a me è proprio una cosa eccezionale a me questa cosa è piaciuta veramente tanto audio è spettacolare questo io lo sceglierei solo per l'audio non per iOS 18 è ovviamente per questo gioco perché Assassin's Creed a me piace veramente tanto ripeto con G6 sarebbe molto più comodo giocare ma comunque in alcuni casi i tassi qua fanno la differenza si voi potete dire io ci metto Xbox Game Pass su un altro dispositivo ci gioco lo stesso assolutamente ci giocate lo stesso però là ecco vi serve una connessione internet decisamente molto più forte e qui invece questa cosa non vi serve ovviamente questa è la versione gratuita ma c'è anche a pagamento comunque sulle 50 bombe non è economico come gioco per tutto il resto è inutile che vi faccio vedere l'A18 non ha problemi proprio di velocità il tutto funziona alla perfezione parliamo un attimo di fotocamera così passiamo anche ai tasti 48 megapixel la principale 12 megapixel le foto vengono scattate a 24 megapixel con i binning da questa parte abbiamo la solita fotocamera dei selfie da 12 megapixel foto che comunque vengono scattate in maniera eccellente mi ero perso non trovavo l'app della fotocamera l'app la conosciamo benissimo non cambia mai foto normali da questa parte possiamo scegliere live oppure no flash ovviamente e qui abbiamo i nuovi i filtri standard brillante da questa parte lambrato qui possiamo andare a scegliere proprio bellissimo comunque questo effetto le animazioni allora una cosa che mi piace di Apple le animazioni e la grafica questo il graphic design di Apple è veramente il top chi sceglie tutte queste cose è bravissimo comunque qua possiamo andare a scegliere tutte queste cose ovviamente potete andare a modificare la foto possiamo andare a modificare anche dopo ovviamente poi ci sono tante altre modalità c'è la modalità cinema ovviamente per i video i video che possono essere 4k a 60 frame ritmo si arriva anche a 120Hz slow motion timelapse eccetera modalità ritratto comunque vengono delle foto interessanti spaziali per chi ha il vision pro io non ce l'ho e poi la modalità panoramica andiamo a vedere come scatta le foto ve le metto già a schermo mentre vi parlo di come le scatta le foto questa qua scattata in metropolitana devo dire che dopo farci vedere l'importanza di questa foto proprio con il tasto della telecamera comunque scatto velocissimo perché se l'avessi provata a scattare con un samsung la foto non sarebbe venuta così foto notturne vengono abbastanza bene qualche rumore video soprattutto se andiamo a zoomare leggermente il difettuccio si vede comunque vengono delle foto fatte bene se andiamo a vedere per esempio questa qua dove c'è l'orologio in londonanza se andiamo a zoomare sull'orologio comunque l'orologio si vede bene non è una palla di luce diciamo così di giorno ovviamente sono foto praticamente perfette anche zoomate non vengono non vengono male qualche zoom di notte invece non è allo top diciamo così molto bene anche le foto macro anche se mi aspettavo qualcosina di meglio i video sono ottimi ben stabilizzati hanno una buona una buona qualità e vi faccio vedere anche i ritratti ovviamente perché comunque le foto con ritratto sono ottime magari vi faccio vedere anche cos'altro si può fare una volta scattata proprio una foto con ritratto questa è una foto con ritratto ovviamente da questa parte possiamo scegliere se volete ritratto oppure no se fate invece le foto live da questa parte potete scegliere gli effetti di animazione tipo quella lunga esposizione eccetera se andiamo in modifica ovviamente possiamo scegliere la profondità vedete la possiamo togliere o possiamo fare tutto sfocato possiamo riscegliere gli stili cosa interessante perché se non abbiamo tempo facciamo il nostro punto di scatta e dopo vogliamo andare a modificare la foto da questa parte lo possiamo fare per esempio non so mi piace facciamo così mi piace naturale voglio andare a modificare un po' lo stile da questa parte lo possiamo andare a modificare mi piace così posso anche cambiare l'intensità del filtro e poi per esempio se mi piace così me la vado a salvare e ce la teniamo modificata foto che comunque vi ripeto sono delle ottime foto non sono al top magari come pro che comunque proverò però comunque le foto vengono molto bene tra l'altro per chi prova android e si trova su instagram proprio da questo iphone è vero le foto quando le storie soprattutto quando le caricate da questo iphone hanno una qualità migliore ma questa purtroppo è una cosa che già sapevamo parliamo un attimo di tasti allora questo è il tasto mi stava scappando da mano l'iphone questo è il tasto azione nel mio caso è impostato come silenzioso o come per attivare l'atum ovviamente personalizzabile anche per aprire la telecamera magari vi faccio dire proprio questa cosa perché comunque è una cosa interessante tastazione non voglio per questo ma voglio che deva aprire la fotocamera quindi adesso mi vado ad aprire la fotocamera questo invece è il tasto proprio della fotocamera stessa cosa se io ci clicco una sola volta è un tasto reale non solo finto che riguarda con i touch no no è proprio un vero tasto poi se lo andiamo a ritoccare in maniera più leggera siamo andati a aprire questa animazione animazione che vi dico sono veramente belle li trovate proprio in tutto il sistema anche se voi andate a cliccare per esempio i tasti qua vedete che ci sono queste piccole animazioni ma fanno fanno la differenza sono molto carini queste animazioni se noi clicchiamo due volte poi andiamo a vedere le varie cose da poter cambiare come lo zoom gli stili la tonalità eccetera eccetera tutte queste cose noi ci clicchiamo sopra andiamo poi a modificare l'animazione è veramente bella intuitiva comodo come tasto ok in molti ve ne hanno parlato non è comodissimo perché se io vado a fare una foto in questo modo ovviamente il mio titolo va a finire qua mentre il tasto si trova qui in alto se invece mi trovo così ecco forse se vado a cliccare con questo tasto in realtà non lo vedo proprio scomodissimo quindi se vado a fare un video per i social bene o male mi potrete trovare anche abbastanza comodo il difetto di vivere a Londra la polizia è ambulanza sempre 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 allora quindi da questa parte il tasto è abbastanza comodo e qui per esempio quando ho fatto la foto della metropolitana e mi trovavo nella metropolitana a posto di tenere il telefono così andare a vedere il tasto ecco fare pure questo movimento molto naturale con il dito io invece mi sono messo di così ho già appoggiato il dito qua sopra ovviamente la fotocamera era aperta e per scattare la foto lo scattate direttamente da qua sopra quindi qualche caso di utilizzo abbastanza utile c'è anche per questo tastino più inutile che utile ma quel caso di utilità c'è però c'è anche questa cosa da dire se adesso ho il telefono bloccato clicco per andare ad aprire la fotocamera vedete che si apre prima la fotocamera di blocco poi vado a fare uno sull'app in alto in realtà si doveva aprire la fotocamera non si è aperto forse era passato un po' di tempo riproviamo no in realtà non si va neanche più ad aprire non so il perché però io invece se vado a cliccare questo tasto la fotocamera si apre direttamente neanche la schermata di blocco esce si apre direttamente la fotocamera il telefono è ancora bloccato si vede da qua sopra ma si apre direttamente l'app fotocamera quindi ecco ci sono anche questi piccoli stratagemi che potete utilizzare per aprire proprio l'app della fotocamera in maniera più veloce la batteria beta quasi 5000 mAh ottima autonomia alle volte me lo sono dimenticato che lo devo caricare veramente al top anche se giocate con assassin's creed per un bel po' di tempo allora vi scalda questa parte alle volte lo sentite un po' caldo ma non è proprio quel bollente che non si può toccare più è solo leggermente caldo però non mi ha mai dato fastidio il calore e poi la batteria devo dire che va gestita molto bene a sera ci arrivate proprio tranquillamente quanto costa comunque costa tanto per essere questo questo iphone qui l'ho pagato sugli 899 serline questa versione qua e in italia ovviamente costa qualcosina in più proprio a livello di cambio ne vale la pena forse si non per chi ha un iphone 15 ma per una versione precedente comunque un ottimo salto generazionale iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto da Pasquale è tutto per il mobile blog ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e proveremo anche iphone 16 pro quindi iscrivetevi e attivate la campanella ciao a tutti ragazzi